In realtà Marcosinci aveva preso traversa, non diciamoglielo Ciao vedone, siamo appassionati Percavano a scuola, vedi? Bello, bello Qua gente ha a farla ragazzi Qua Marcosinci, Marcosinci E l'abbiamo portato finalmente In un video, video speciale Video del 31 dicembre 31 dicembre e c'è il sole Però vabbè, e cosa facciamo oggi? Spiegato tu mentre io vado a prendere la palla E ragazzi qua Marcosinci ha spiegato tutto In maniera davvero imbarazzante Si doveva infatti semplicemente tirare da fuori ara E cercare di colpire la terrestre Prima che l'avrebbe colpita 5 volte avrebbe vinto Inoltre ragazzi vi volevo ricordare Di lasciare un bel mi piace Poiché a 2500 mi piace Uscirà la super crossbar challenge Che però non vi dico di cosa si tratta Lo dovrete scoprire voi Un step Step La prima Ragazzi si sa che è molto facile Molto facile Ragazzi inizio io Per un po' di riscatamento Se c'è il tiro Fa tanto così ragazzi Questa Adesso vedrete come lo arrenò Non vedete tanto cazzo se lo arrenò ragazzi Ma noi iniziamo così E siamo già uno Tocca al Marcosinci ragazzi Guardiamola insieme Vediamo Marcosinci che sbaglia Bello Bello Fai casusa Fai casusa Dai secondo Secondo Terzo tiro Signori Il tiro Bello Cavallo Mi sa che dobbiamo arrivare a 3.05 Se no non andiamo più a casa Mamma mia Cosa stava per fare Ragazzi è anche si incituto Così Dovete vedere che è molto forte Molto forte Io sono andato più vicino di lavora ragazzi Ragazzi direi di andare a 2 2 traversi Marco Così 2 Noi Ce l'abbiamo fatta però dopo anni a registrare Minchia Non è forte Non è forte Le stati Ragazzi stiamo andando a Maruccio Vai Vola Mamma E va a 2 E Marcosinci rimane dietro No Che f***o di merda Ragazzi ha toccato a Maruccio Ma ha toccato pochissimo Però ha voluto anche per lui Vediamo il terzo Ma non è il terzo Mamma mia ragazzi E 2 su 2 E fa 3 a 1 E vai vai 3 a 1 Ragazzi intanto Marcosinci non so più cosa fare E' in crisi Mi prende una 3 su 3 Merda E' pochissimo E' pochissimo Poi ragazzi scusateci se non sono messe benissimo le inquadrature Diciamo ma Il nostro primo video di questo genere Grazie adesso Marco Cinci No Sì bella Questa la presa anche bene 3 a 2 Mamma mia ragazzi Ma contro chi sta toccando 4 a 2 Che ne manca una Non c'è ragazzi Non c'è ragazzi Non c'è ragazzi Non c'è ragazzi Ehi si è sentita 4 a 3 Ma ragazzi Questa è imbalattante Se mette questa purtroppo Ho già perso Il primo round A te Sì Bello Bello Occasione di recupero per Marco Cinci Questione Te da pareggio Dai chi te da pareggio Dai chi te da pareggio Eccolo No 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 Eh In realtà Marco Cinci Aveva preso traverso Noi non diciamoglielo Shhh Iniziamo Marco Cinci vuole perdere Ragazzi capite Mi voglio umiliarlo Ragazzi Ragazzi vediamo la vittoria Posso finirla Possiamo vincere Dai vincere Ci dai permesso di vincere Dai vincere che dopo Ficciamo il secondo step Ok ragazzi Questa qua ci vorrebbe una musichetta Attenzione Marco Cinci Ci chiede la musica epica Vediamo Sto con il braccio dietro Ma che bello Ma cazzo Ho fatto uno look Dove mi rimane Dove mi rimane Dove mi rimane Dove mi rimane Potrebbe recuperare Ormai da 6 turni Però dettagli Vediamo Dai Bagliaggio Già dici tu che è finita In internet Ci siamo finiti dopo Il 2-2-2 Non vuole entrare ragazzi Non vuole entrare Non vuole entrare Così Eccola Quattro pari ragazzi Questa si darà Dell'incredibile C'è l'attenzione Eccola Attenzione Può andare a vincere Può vincere Può andare a vincere Ragazzi Commenterò con voi Questo possibile gol Del Marco Cinci Se vince Se fa gol Ha vinto Incredibile Se fa gol Ha vinto Minchia Ragazzi Game over Del Marco Cinci Sì eh Ma non me ne va più Può vincere Marco Cinci Madre mia ragazzi Ho il terrore Di questa palla Dio Uuuu Valla prende Valla prende Non ne va più Davvero davvero Vince lui Vince lui Vince lui Un'altra Un'altra Ultimo tiro è stato battuto ma non è finita qua perchè ha fatto il video di aver raggiunto di 2000 mi piace 2000 mi piace e ne portiamo altri giusto? esattamente quindi quando? quanti mi piace? 2000 2005 mi piace è natale è capolanno 2 3 4 5